Un'emozione indescrivibile, quasi un sogno che ancora faccio difficoltà a realizzare. Stenta ancora a crederci Luigi Recchiuti del birrificio per bacco di Notaresco, fresco vincitore del titolo di birraio dell'anno 2021. Con le sue produzioni è riuscito a conquistare i 100 giudici che ogni anno sono chiamati da Fermento Birra a rispondere alla domanda che è stato il più bravo birraio italiano. E così dopo il terzo posto dell'anno passato Luigi riesce nell'impresa di mettersi alle spalle il favorito Marco Valeriani, già vincitore di due titoli, e Giovanni Faenza, vincitore della scorsa edizione. Mi è successa una cosa strana perché pensavo, non ci ho capito niente, di non essere lì, sembrava che non stava nel mio corpo e poi la cosa strana è che, vabbè, rivedendo il video, quei momenti in cui ho abbracciato Marco Muckeller e sembrava che io ero rimasto bloccato là per 5 minuti, invece sono stati secondi. L'arriato in scienze agrarie Luigi, alla fine degli anni 90, scopre il nascente fenomeno della birra artigianale, iniziando il suo viaggio nella produzione. Così nel 2009 nasce Opperbacco, un gioco di parole che ricorda la vocazione enologica di questa terra. Il resto è storia recente. Ho sempre puntato un po' sulla creatività. Io penso che la birra artigianale, a differenza del vino, che è una cosa comunque che sfonda sulla storia, il vino, noi no, noi attingiamo un po' dappertutto e siamo un po' cuochi, quindi noi dobbiamo farci forza della nostra creatività, attingere la nostra creatività. Quando sarà difficile adesso confermarsi? Ma no, ma noi per me questo sta a posto, nel senso non devo confermarmi. Per me è un arrivo e comunque questo è un lavoro, cioè quindi noi continuiamo a fare quello che ci piace.